Venire a dirci qualcosa, anche stasera. Noi adesso, prima abbiamo fatto un po' di rumore sulle montagne e lui ha sentito. Adesso però arriviamo al dunque. Arriviamo al dunque perché lui ha un desiderio enorme di venire e di incontrarti perché sono due anni che non lo vediamo. Per cui il desiderio che abbiamo noi di sentire quello che è arrivato e il desiderio suo di venire dopo il Covid. Noi no, si spera perché adesso un po' di mascherina non ne vedo. Per cui ringraziamo qualcuno più in alto di noi. Chi ti crede, lo ha capito, chi non ti crede, crederà.